ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale io sono stefania molto piacere per chi passasse di qui per l'appunto per la prima volta mi trovate attiva anche su instagram sotto il nome di love for smell 23 il video di oggi è dedicato alle nostre mamme che sono praticamente il cardine di ogni famiglia sono insostituibili e indispensabili e penso che chiunque la pensi come me c'è chi ha la fortuna appunto di avere una mamma come la mia cioè sa che è veramente indispensabile anche se a volte rompe le scatole però insomma noi le vogliamo bene lo stesso no detto questo il video appunto del giorno servirà per dare a voi delle idee degli spunti per fare appunto un pensierino alla nostra mamma io ovviamente vi presenterò dei profumi poi penso che basti anche semplice una semplice rosellina no un fiorellino e parto dal low cost per arrivare alla nicchia la prima proposta del giorno è un cofanetto che io ho trovato graziosissimo sono stata di recente dall'erbolario e ho visto lui e l'ho preso costa all'incirca su una ventina d'euro l'ho pagato mi pare forse 22 il cofanetto è così composto trovate per l'appunto all'interno adesso appoggio la scatola una scatolina di latta e dentro avete il profumo da 10 ml la fragranza che ho scelto è melograno perché mi sono innamorata ed un ciondolino proprio che ha questa caratteristica qui riportato per l'appunto il frutto del melograno ve lo faccio vedere ecco qui è rosso ma la cosa carina è che si può aprire e qui c'è una specie di pezzettina di panno nel quale appunto potete spruzzare la fragranza e una volta indossato il profumo avrà appunto cioè il ciondolino avrà il profumo del melograno stesso che è per l'appunto il profumo del quale voglio parlarvi eccolo qui mi sono innamorata questa è una fragranza particolarissima so che è uscita ancora l'autunno scorso ma non l'avevo mai provata l'ho provata per puro caso perché ero andata come tutti per provare dolce lisir che sa appunto essere uscito di recente e che io personalmente non avevo mai provato e dunque per acquistare quello ho trovato questo porta in apertura mandarino limone come note di cuore abbiamo melograno ribestrosso e peperosa e in base abbiamo muschio questo profumo mi ha colpito profondamente perché è un profumo molto profondo è un profumo intenso ed è un profumo misterioso l'apertura è tutta tutta fruttata estremamente agrumata io sento tantissimo quello che è il profumo del limone accompagnato anche a quello del mandarino ma secondo me il limone sovrasta l'apertura è anche a tratti leggermente acidula però questo poi va a scaldarsi perché il dry down del profumo è molto caldo posso dire anche che è un profumo estremamente unisex alcuni lo definiscono addirittura maschile io personalmente lo trovo unisex non maschile perché poi una volta scaldato lasciamo andare un attimo il profumo si scalda diventa molto cremoso è una fragranza proprio sofisticata e ben strutturata questa dicono alcuni che somigli anche a pax di pazzaglia io purtroppo non ho ancora provato pax dunque non so dirvelo ma se qualcuno di voi ha pax e anche lui magari può provarli entrambi e farmi sapere se è vero quello che io effettivamente ho letto questa è anche una fragranza carina da appunto regalare per il semplice fatto che il melograno stesso il frutto del melograno è simbolo di fertilità di buon auspicio dunque perché non regalano regalarlo per l'appunto alla nostra mamma e soprattutto anche le materie prime con le quali l'erbolario compone e crea le sue fragranze sono di ottima qualità e non hanno niente e dico niente da invidiare a case di nicchia molto più costose perché non tutte le case di nicchia secondo me sono valide e non bisogna discriminare per come la vedo io nessun profumo e questo è ottimo la seconda proposta del giorno di cui io voglio parlarvi è un mio grande amore un mio profumo firma che indosso da tantissimi anni ed è questo non ne sento parlare molto è twigli di hermes intanto la boccettina è graziosissima ecco qui con il proprio di hermes stesso il profumo adesso ha spruzzato melograno sulla sinistra spruzziamo qui sulla destra questo è un profumo con degli attributi così porta in apertura zenzero arancia amara e bergamotto in centro abbiamo tuberosa fiore d'arancio c'è la tuberosa qui dentro non mi dà mal di testa è miracoloso questo profumo e gelsomino in base abbiamo sandalo e vaniglia questo è un profumo molto sofisticato è un profumo strutturato apre speziatissimo se siete amanti dello zenzero sappiate che qui in apertura è una ventata proprio briosa di zenzero che viene però avvolto in quella che è la vaniglia una vaniglia molto dolce questo è un profumo elegante è un profumo che non è mai banale c'è qualcosa veramente di magico in questo profumo la boccetta vabbè la cioè è un bijou io la trovo veramente graziosissima questo secondo me è uno dei profumi più belli che sono stati appunto creati da hermes si sente tutta quella che è la potenza dei fiore bianchi la tuberosa c'è ma come vi dicevo precedentemente è miscelata così bene da non essere troppo pungente da non infastidire come vi ho detto altre volte io ho un problema grandissimo con i profumi alla tuberosa perché mi danno un mal di testa ma un mal di testa veramente allucinante tanto che molto spesso dico che se voglio indossare un profumo alla tuberosa devo layerarlo con l'occhi task che non mi pare una gran trovata ma qui vi assicuro che l'occhi task almeno nel mio caso perché ovviamente i profumi vanno provati cioè non è necessario questo è un profumo brillante estremamente gioioso molto giovanile però in un certo qual modo potrei dire che presenta anche una dicotomia al suo interno perché è sì giovanile e brillante ma lo vedo altrettanto bene su una donna di una certa età è un profumo che anche un allure vintage a un certo punto diventa anche leggermente polveroso e cipriato è un profumo denso ha una buona longevità e un buon sillage e proietta anche bene questo è un profumo stupendo l'ultimo profumo del giorno è un gourmand a tutto tondo e per eccellenza vi voglio presentare per l'appunto l'ira di casa morati qui devono piacervi i profumi molto dolci e è uno dei miei preferiti strano vero porta in apertura arancia rossa bergamotto e lavanda abbiamo come note di cuore cannella liquidizia e gelsomino in base abbiamo caramello vaniglia e muschio io l'ho amato dal primo spruzzo qui ho fatto blind buy dopo aver letto le recensioni sapete che sono una grandissima amante del rischio dunque compro in blind buy però questo è stato un blind buy sicuro qui ragazzi pensate a un biscotto appena sfornato al caramello e alla vaniglia alcuni sentono anche tanto quello che è il profumo di una torta al limone io sinceramente non sento questa nota aggrumata io sento proprio una nota quasi dolce leggermente salata tipo quella che può avere un buon caramello bruciacchiato secondo me somiglia più appunto a un biscotto al caramello appena sfornato è un profumo questo soave è un profumo avvolgente è un profumo che vi abbraccia in una coccola zuccherina devono ovviamente piacervi i gourmand perché questo effettivamente come vi dicevo all'inizio è un gourmand a tutto torno posso dirvi anche che a legge suprema quello che è il profumo della vaniglia estremamente vanigliato è anche un profumo polveroso dolce un filino speziato perché c'è anche la cannella al suo interno questo è un profumo stupendo se vi piacciono i gourmand qui potete andare sul sicuro la durata è moderata va rispruzzato forse è tendenzialmente più da diciamo stagioni fredde forse autunno inverno io me ne frego altamente perché mi piace così tanto che lo porto tutto l'anno ovvio che diciamo lo spruzzo in maniera un pochino più moderata in estate perché potrebbe essere per qualcuno magari in qualche modo soffocante non per me ma per qualcuno sì dunque diciamo cerco di moderarmi nello spruzzarlo questa è la mia ultima proposta del giorno spero di avervi dato delle idee buone delle idee concrete sulle quali appunto potervi concentrare e ci vediamo al prossimo video un bacio grande ciao